il primo che muore è solo quando sto a sentire e tre dentro carai ero tutto contento non mi era storia ma ancora poi io tu sia però tutta le azioni c'era gente delle case ma non c'era come a casa adesso ma ma non c'era Arrivano! 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 Niente! Dopi! Vieni con me qua! Con me! Con me! Con me! Andiamo! Fatto! 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 Ho 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 fatto! Non rosso! Allora! Ballarei così! Che ho dato gran parte! Ho lasciato divano un'arma recente, però porca troia! Ecco Oh Andiamo a me Cracato Cracato Poi Dai niente non è cracato Per cavo Facciamo dove è pure buono Eh Va Allo po' Con Dio andate a farlo vedere io figli di puttana Andro più io c'è chi Ma hai salvato A Nielson Ma venite a salvare a me adesso Eh uno ha salvato a Nielson Questo ha salvato Grano Erano mesi morti Cazzo Erano tutti morti Lo prendo Lo dà Perfino Oh c'è un punto di tre kill guarda Perfino Ragazzi mi dà te per favore Un paio di mila euro ognuno No E' un po' D'un po' E' un po' questo è avanzato no perché non lo fa dentro, sopra no, sopra Sì non erano voi due che erano di sopra, sali sali ti hanno giù mi ha tirato un bombardo sarai vedete questo dietro qua ah l'ho craccato oh che qui oh oh ragazzi cosa ho fatto io sto fuggendo da sotto io sto fuggendo da sotto io sto fuggendo da sotto seguimi seguimi non c'erano le armi era lì guarda c'era dietro il camion no no non veni sotto questo a me non è meglio hai preso dietro il camion raggiungo questa zona dove so sono andrata noooo oh oh vieni a cercare il mio insieme però non porti fuori sono senza munizione no con l'altra tiene della tesa tiene della iniziativa c'è rimasta una persona questo è sotto il tunnel questo sotto la maschera non c'era niente no se c'è la maschera c'è niente al buco lì difficile sarà rimasto tutto sotto dopo il tempo non c'è la buona vittoria linda c'è la mia vita per la prima la mia vita per la prima volta è da salvare la mia vita